Stiamo provando per voi innanzitutto il nuovo modello DRS dal Bello. È una scarpa da gara ovviamente, per cui sicuramente tende a farsi sentire in questa zona qui. Con una novità però, la punta non stringe, per cui sebbene il numero sia giusto giusto, garantisce la mobilità di punta, quindi non ci sono filmicoli che quando fa freddo non si congela le dita. Per il resto invece la sento molto sensibile in questa parte qua, però sensibile ma non che stringe, cioè non da dover lavorare. Qui è perfetta, vediamo poi in pista. Grazie 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 Grazie